Attenzione che in posizione regolare Torres controlla, vai in uno contro uno con Vitor Valdez, Torres per andare in finale di Champions, Torres lo salta, la porta è vuota! Il Chelsea andrà a giocare la seconda finale di Champions League della sua storia! La gioia di Roberto Di Matteo e questa è anche un pizzico di taglia che ci sarà nella finale! E Ligno Torres l'ottavo gol della carriera!